Musica Seconda notte tranquilla per Papa Francesco ricoverato al Gemelli di Roma, per i medici il quadro clinico è in progressivo miglioramento. Ci sono tante sfide da affrontare, così Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, ha pochi giorni dall'elezione a Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese. Le patiti infettive croniche strategie di azione è stato questo il titolo di un convegno che si è tenuto ad Andrea. Al via la ventiduesima edizione dei Dialoghi di Trani, in programma dal 21 al 24 settembre, il tema scelto quest'anno è la cura. Come ogni venerdì appuntamento con la rubrica dedicata alla salute e al benessere prodotta da Teledeon. Oggi alcuni consigli per l'estate. Musica Benvenuti alla prima edizione del telegiornale di Teledeon. Sono positive le notizie che arrivano dalla sala stampa vaticana sullo stato di salute di Papa Francesco. Per lui anche la seconda notte di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è trascorsa tranquilla e senza complicazioni, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico all'addome. Lo ha fatto sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni. Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti sul Pontefice. Prosegue senza complicazioni la convalescenza di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma a due giorni dal delicato intervento chirurgico all'addome. Secondo quanto riportato da Matteo Bruni, direttore della sala stampa della Santa Sede, Bergoglio ha trascorso un'altra nottata tranquilla. Dopo aver fatto colazione ha iniziato a mobilizzarsi, trascorrendo gran parte della mattinata in poltrona, dove ha letto i quotidiani e per poi lentamente riprendere il suo lavoro. Per l'equip medica il quadro clinico è in progressivo miglioramento e il decorso post-operatorio e regolare. Ieri il Santo Padre ha trascorso una giornata di riposo ed è stato alimentato con una dieta idrica. Inoltre, nel pomeriggio, solennità del Corpus Domini, il Papa ha ricevuto l'Eucaristia. Il Santo Padre poi ha telefonato per ringraziare la mamma del bambino che lui aveva battezzato durante il ricovero del marzo scorso, in occasione della visita al reparto di oncologia pediatrica del Gemelli. La donna ha raggiunto il policlinico per mostrare la sua vicinanza al pontefice e donargli un poster. Intanto, numerosi sono i messaggi di vicinanza e di augurio che stanno giungendo al Papa da ogni parte del mondo, come la lettera di pronta guarigione che il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina gli ha inviato ringraziandolo per aver ricordato la martoriata ucraina nell'ultima udienza generale prima di essere ricoverato. Infine, gli ha espresso l'immensa gratitudine per il suo instancabile impegno a favore della pace giusta nel nostro Paese e in tutto il mondo. Sono tante le sfide da affrontare nei prossimi anni, dalle migrazioni ai morti sul lavoro. Servirà impegno, lo ha detto l'arcivescovo di Bari Bitonto e neopresidente della conferenza episcopale pugliese, Monsignor Giuseppe Satriano, a pochi giorni dalla elezione. Il servizio è di Alba Di Palo. La conferenza episcopale pugliese non avrà come guida un condottiero, ma un coordinatore della comunione e del lavoro dei vescovi della regione. Lo assicura il neopresidente dei vescovi pugliesi, Monsignor Giuseppe Satriano, che da due anni guida l'arcidiocesi di Bari e Bitonto. Tante le sfide da affrontare e che dovranno profumare di Vangelo, sostiene Satriano. Ci sono le sfide riguardanti alle nuove povertà, ci sono le sfide che la pandemia ha creato, ci sono le sfide legate al lavoro, ai morti sul lavoro, ci sono le sfide pastorali. Non dimentichiamo che un altro problema che stiamo vivendo, oltre all'immigrazione e anche l'emigrazione di tante persone, di tanti giovani, c'è la sfida degli anziani. Ma direi che la sfida prioritaria è quella dell'evangelizzazione per noi, è quella di profumare di Vangelo questo mondo che abitiamo, ridonando speranza. Perché il tempo che stiamo vivendo porta tanta disperazione, tanta desolazione, tanta desistezza nel cuore di molte persone. Del nuovo incarico che durerà cinque anni sente la fatica per la consapevolezza di una responsabilità che porverò, evidenzia, ad affrontare con spirito di servizio. Citando le parole pronunciate da Papa Francesco quando cinque anni fa è venuto in Puglia per il venticinquesimo anniversario di morte del venerabile Don Tonino Bello, Satriano ricorda che Bari è una terra di comunione, di incontro, di ponte e su questo stiamo continuando a lavorare. Non ci siamo mai fermati. Sicuramente in uno scenario così difficile e delicato come quello che stiamo vivendo i passi sono discreti ma sono anche efficaci. Non dimentichiamo i vari momenti che abbiamo vissuto anche a Bari, non ultima la Veglia per la Pace, voluta anche dalla CEI, a cui hanno partecipato diversi vescovi. Quindi c'è una sensibilità che nasce da Bari e che Bari non vuole rinunciare a coltivare e a portare avanti, insieme anche a coloro che si pongono accanto come nuovi attori su questo scenario. Il nuovo ruolo è stato accolto con grande responsabilità confidando nel conforto della preghiera. Confido nell'aiuto del Signore perché questo è per me primario, confido nella preghiera di chi crede e confido anche nel vostro aiuto che non mi rendiate questo lavoro difficile. E sempre Monsignor Satriano ha rivolto a Papa Francesco un messaggio di auguri, di pronta guarigione a nome dei vescovi pugliesi. È un guerriero molto forte quanto ha detto Monsignor Satriano definendo così il Santo Padre. Il Santo Padre è un guerriero molto forte e certamente ci ha un po' spaventato saperlo all'improvviso di questo intervento ma avere le notizie che sono state diramate dal Gemelli oggi diventa per noi motivo di grande speranza e fiducia per un cammino che continua. Quindi gli auguri più cari da parte di tutti i vescovi della conferenza episcopale pugliese. Oggi ricorre la festa liturgica di San Riccardo, patrono della diocesi e della città di Andrea. Per l'occasione Teledeon trasmetterà in diretta alle ore 19.30 dalla Chiesa Cattedrale la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Monsignor Luigi Manzi. A Mottola in provincia di Taranto si è svolto un convegno dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio rupestre. Sentiamo. È uno dei patrimoni simbolo di Puglia e Basilicata. Paisaggi che raccontano luoghi intrisi di storia, tradizioni ed emozioni. Sono le gravine a cui è stata dedicata una due giorni, ospitata a Mottola nel Tarantino, nel corso della quale rappresentanti del mondo accademico e della ricerca ed esponenti delle istituzioni si sono confrontati per guardare al futuro culturale e turistico orientato alla valorizzazione del patrimonio rupestre, evidenziando la necessità di affiancare allo studio archeologico i nuovi temi legati alla comunicazione e alla gestione del patrimonio culturale per cogliere le sfide che il PNRR ha lanciato. L'obiettivo è migliorare l'ambiente rupestre esaltandolo nella sua unicità attraverso il suo studio. In Puglia, nel nostro territorio, il patrimonio rupestre rappresenta sicuramente una testimonianza particolarmente significativa di un periodo, il periodo bizantino, che non sussiste in maniera altrettanto consistente e significativa più nelle architetture erette. E pertanto è molto importante continuare a studiare, continuare ad approfondire tutte le questioni che ruotano intorno a questo tipo di patrimonio. Il maltempo che ha colpito a macchia di leopardo la Puglia ha provocato danni ingenti all'agricoltura. È la denuncia della Coldiretti regionale. Vediamo. Frutta e ortaggi distrutti dalla grandine, teloni di uva da tavola strappati dal vento, colture affogate dai nubi fragi a causa dei violenti temporali, forti grandinate e tempeste di vento e fulmini. Questi sono solo alcuni danni emersi dal monitoraggio della Coldiretti Puglia sugli effetti della perturbazione che attraversa la regione e dove sono stati rilevati ben 9 eventi estremi negli ultimi sette giorni. Il rischio è l'ulteriore aumento dei prezzi dei prodotti sugli scaffali dei supermercati, schizzati già dal rialzo delle quotazioni delle principali materie prime a causa della guerra in Ucraina, spiega Coldiretti regionale. Il maltempo, con temperature più basse della media stagionale, bombe d'acqua e vento forte dopo la lunga siccità, colpisce anche gli alveari e taglia i raccolti di miele in primavera, denuncia l'Associazione di Categoria, con una perdita di produzione dei mesi di aprile e maggio 2023 pari anche all'80% rispetto alla scorsa stagione. Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici, dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma con una tendenza alla tropicalizzazione, che compromette le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. Le patiti infettive croniche strategie di azione è stato questo il titolo di un convegno che si è tenuto ad Andrea. Ascoltiamo Luca Ciciriello. Come rafforzare la rete assistenziale per prevenire e curare le epatite C e le altre malattie infettive correlate alle tossicodipendenze? Sì, questo convegno ha avuto proprio la necessità e la volontà di stabilire i piani diagnostici, terapeutici e assistenziali validati. Per fare questo abbiamo ritenuto coinvolgere tutti gli attori in campo, dalla prevenzione ai medici di medicina generale, ai medici che si occupano di malattie infettive all'interno dei penitenziari, ai medici responsabili dei reparti di malattie infettive naturalmente a noi del Dipartimento delle dipendenze patologiche perché all'interno dei nostri servizi i nostri pazienti tossicodipendenti possano avere la certezza di un accesso e di una cura alla luce di queste importanti innovazioni come per esempio quella del farmaco antiretrovirale che eradica completamente la problematica dell'epatite C. A proposito di queste malattie, quali numeri emergono se pensiamo al territorio della sesta provincia pugliese? Sì, io l'allargherò anche a livello regionale, la regione Puglia è un po' in ritardo rispetto agli screening, sono circa da screenare ancora circa 800.000 persone che presto avranno la convocazione da parte dei medici e di medicina generale. Per quanto riguarda l'aspetto nostro dei servizi SERD sono stimati in tutta la regione Puglia circa 8.000 pazienti, di noi, dei nostri, dell'ASLBAT, ne parliamo intorno ai 1.500 pazienti, per cui sono numeri importanti in virtù proprio della patologia cronica non soltanto per arrivare ad una cura più tempestiva, ma per evitare tutte quelle conseguenze nefaste nel corso non di anni ma di decenni. Sono terminate a Bari le Olimpiadi della Prevenzione, il progetto il cui fine è quello di aiutare i bambini e gli adolescenti ad acquisire comportamenti positivi e la consapevolezza del rischio in modo giocoso. Oltre 11.000 studenti pugliesi sono stati coinvolti. Vediamo com'è nel servizio. Si è conclusa al Teatro Chismet di Bari la quinta edizione delle Olimpiadi della Prevenzione, organizzata da INAIL Regione Puglia in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. All'evento finale hanno partecipato centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi, finalisti del videogioco Scaccia Rischi, realizzato dalla società barese Age of Games, per aiutare i più piccoli a orientarsi sui temi della sicurezza e della prevenzione. Questo brand cross mediale che è nato grazie alla lungimiranza di INAIL Regione Puglia è ormai un progetto totalmente maturo che è stato riconosciuto scientificamente utile ed efficace dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bari e adesso si proietta davvero a superare anche l'ambito regionale e noi crediamo possa essere applicato anche a livello nazionale e internazionale, perché i videogames non devono rimanere semplicemente nell'ambito del puro intrattenimento e soltanto distribuiti dal cosiddetto libro mercato, ma devono essere di pubblica utilità utilizzati al meglio per questo. Sono stati oltre 11.000 in totale i ragazzi che si sono cimentati a casa e in classe con i diversi livelli del gioco, pilotando i supereroi della sicurezza per combattere contro i malvagi. Tra i nuovi nemici inseriti nel gioco per questa edizione c'è anche il rischio da sovraccarico biomeccanico del sistema muscolo-scheletrico con l'invito ad alleggerire il carico degli zaini per non affaticare la colonna vertebrale. Il videogioco Scaccia Rischi rappresenta il primo caso nazionale di studio sul rapporto tra videogiochi e bambini e ragazzi condotto dal Dipartimento di Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari ed è diventato un modello da provare sia dagli studenti che dagli insegnanti. La cura è il tema scelto per la ventiduesima edizione dei Dialoghi di Trani in programma dal 21 al 24 settembre. Ascoltiamo. La cultura della cura come impegno comune, solidale e partecipativo per proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti e al fine di debellare la cultura dell'indifferenza, dello scarto e dello scontro. A questa idea della cura guarda la ventiduesima edizione dei Dialoghi di Trani che dal 21 al 24 settembre porterà nei palazzi e nelle piazze del porto della città pensatori di diverso orientamento per aprire un confronto su esperienze ed esigenze di cura maturate in ambito medico-sanitario, scientifico-ambientale, politico-sociale, letterario-artistico, facendo interagire la pluralità dialogante delle diverse voci. Anche quest'anno ospiti internazionali, ma anche molto interessanti gli ospiti italiani, dobbiamo dire, non ce ne dimentichiamo. E poi la nostra partecipazione in luoghi che non sono qui in Italia. L'anno scorso siamo stati a Parigi, quest'anno andiamo a Malta e partiamo appunto il 15 giugno in questo incontro all'Istituto Italiano di Cultura tra due filosofi che parleranno della cura della memoria, delle parole. Anche perché attraverso questi eventi che hanno un livello culturale altissimo, di altissimo livello, ci permette di qualificare anche il turismo che arriva da noi in Puglia e nel specifico nella Bat e a Trani. Come da tradizione i dialoghi torneranno ad animare il centro storico di Trani e fulcro della manifestazione sarà Piazza Quercia, affacciata sul mare e con vista sulla cattedrale. Perché sono quelle manifestazioni che A. fanno crescere intanto di spessore culturale la nostra città, B. fanno crescere le presenze turistiche sulla nostra città, fanno crescere quindi anche l'economia della nostra città, vanno sostenute soprattutto quelle manifestazioni che nel tempo hanno dimostrato di essere appunto oramai ben strutturate. Lo stiamo facendo con tutti, è chiaro che in primis lo facciamo con i dialoghi di Trani. Non dimentichiamo che il sottotitolo dei dialoghi è Idee, libri, autori, aggiungerei autrici ora, è il tempo di aggiungere anche il femminile, e quindi i tre motivi sono collegati, ci vogliono delle idee, bisogna leggere e bisogna interagire con autori e autrici. E credo che questo è un momento di alta cultura, ma di alta formazione personale, quindi che viene offerto ad una comunità non solo quella di Trani, ma dell'intero territorio. Credo che questo è proprio il patrimonio che vada tutelato, la capacità di fermarsi e di dire ciò che è essenziale per prendersi cura uno dell'altro. E come ogni venerdì appuntamento con la rubrica dedicata alla salute e al benessere, prodotta da Teledeon. Oggi il dottor Giuseppe Labianca ci darà alcuni consigli per l'estate. In estate molte diete saltano e con esse anche tutti i sacrifici che sono stati fatti prima dell'arrivo del periodo estivo. Con questo video voglio fornirvi qualche indicazione proprio per limitare il cosiddetto danno. Innanzitutto la prima cosa da fare è quella di mantenere una corretta idratazione, perché l'aumento delle temperature causa chiaramente una condizione di maggior sudorazione, perché appunto il corpo ha necessità di mantenere una sua temperatura corporea. In secondo luogo qual è l'altro problema critico? I pasti fuori. Ora, i pasti fuori che sia in un ristorante o che sia al mare possono essere gestiti con estrema tranquillità. Ovvero principalmente quando andate al mare potete utilizzare prodotti freddi, come per esempio il riso freddo, in cui abbinate il cereale a una proteina e a una verdura. In questo modo andrete a limitare il danno. Il gelato. Il gelato è un alimento che in estate può essere tranquillamente utilizzato, ma è giusto inserirlo nella giornata con criterio. Principalmente sarebbe utile inserirlo la mattina e ricordatevi che il gelato non sostituisce il pasto, ma quello che fa è darvi un carico maggiore di zuccheri. Nel momento in cui andate invece fuori, quindi a un ristorante, potete scegliere, decidere di scegliere l'alternativa senza carboidrato, quindi una fonte proteica abbinata a una fonte di grassi, magari una carne o un pesce un po' più sfizioso. Per ciò che concerne invece l'alcol e chiaramente tutte le bevande gassate, indipendentemente dal periodo che sia estate o sia inverno, andrebbero chiaramente molto molto limitate. Ora in ultimo è l'attività fisica che soprattutto l'estate ha un grosso punto interrogativo di cui faremo una puntata a parte, però vi dico che l'estate comunque è possibile allenarsi o comunque è possibile sfruttare la spiaggia e il mare per potersi fare una bella notata, magari di una ventina di minuti, una mezz'ora, proprio per aumentare il dispendio energetico. Ed era questo il nostro ultimo servizio per questa edizione, prima edizione del telegiornale di Teledeone che termina qui. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un sereno pomeriggio. Grazie a tutti.